Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi parliamo di una vicenda giudiziaria molto importante che ha ricoperto svariati anni della storia italiana e partiamo dagli anni 80-90 fino ad arrivare agli anni 2010. Di cosa parliamo? Parliamo della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista il gruppo Mondadori. Tutti conosciamo il gruppo Mondadori, tutti siamo entrati almeno una volta in uno dei loro punti vendita ed abbiamo un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Ma da dove nasce la storia di questo gruppo editoriale? La storia nasce con Arnaldo Mondadori nel 1907 a Ostia in provincia di Mantua. La sua prima pubblicazione era un periodico popolare istruttivo chiamato Luce. Insieme ad Arnaldo Mondadori nel 1911 dentro l'attività editoriale entra Tommaso Monicelli, il padre di Mario Monicelli, il famoso regista e insieme cominciano a creare una serie di pubblicazioni dedicate ai ragazzi in età scolare con l'obiettivo quindi di creare dei libri formativi quindi che fossero delle letture di accompagnamento ai testi scolastici. Ma con questo video non voglio raccontarvi tutti i singoli anni dalla nascita della casa editrice Mondadori fino ai giorni nostri. Quindi se mi permettete vorrei fare un salto storico molto importante ed arrivare alla fine degli anni Ottanta in cui il gruppo editoriale Mondadori era diviso tra tre famiglie che possedevano appunto tutte quante un terzo delle azioni della Mondadori. Queste famiglie erano la Fininvest, quindi la famiglia Berlusconi, la CIR guidata dalla famiglia De Benedetti e la famiglia degli imprenditori Formenton. Quindi tutti quanti controllavano la casa editrice Mondadori. Nel 1988 i Formenton avevano deciso di cedere la propria parte delle azioni alla famiglia De Benedetti quindi alla CIR e De Benedetti li convince a firmare un precontratto, un contratto preliminare secondo il quale entro la fine del 1991 quindi nel giro di tre anni le azioni in possesso della famiglia Formenton sarebbero passate completamente alla famiglia De Benedetti e quindi al gruppo CIR. Nel 1989 però i Formenton cambiano idea quindi non rispettano questo patto e vendono le proprie azioni a Fininvest quindi alla famiglia Berlusconi. Il 25 settembre del 1990 quindi Silvio Berlusconi e la Fininvest rappresentano la presidenza del gruppo Mondadori per la prima volta nella loro storia. De Benedetti però non era molto contento di questa situazione infatti ricorse ad un arbitrato per vedere appunto se l'accordo tra i Formenton e i Berlusconi fosse legittimo e se invece fosse stato posto in violazione dell'accordo che aveva fatto firmare lui stesso alla famiglia Formenton. È qui che nasce la vicenda che passerà poi alla storia come lodo Mondadori. I tre giudici incaricati di questa decisione erano scelti uno dalla corte di Cassazione, uno dalla famiglia De Benedetti ed uno dalla famiglia Formenton. Questi giudici diedero ragione a De Benedetti e quindi De Benedetti riprese il controllo di quelle azioni che all'inizio dovevano aspettare a lui e diventò il presidente del gruppo Mondadori spodestando Berlusconi. Ma la vicenda non si ferma assolutamente qui. Infatti i Formenton impugnano la decisione dell'arbitrato, quindi questo lodo Mondadori, davanti alla corte d'appello di Roma che stabilì che a decidere doveva essere la prima sezione civile del tribunale. La prima sezione civile del tribunale è quella che si occupa del cosiddetto diritto della persona, quindi di tutti quegli diritti inerenti a separazione, interdizione, tutela e risarcimenti vari. La prima sezione civile era allora presieduta da tre giudici, Valente, Paolini e Metta. E ricordatevi bene questi tre nomi, Valente, Paolini e Metta, perché torneranno poi successivamente. Il 24 gennaio del 1991 questa corte diede ragione ai Formenton, giudicando quindi l'accordo con De Benedetti non valido, perché in contrasto con la disciplina delle società per azioni. Quindi Berlusconi, che era stato spodestato da De Benedetti alla presidenza della Mondadori, torna alla presidenza della Mondadori. Non tutti però erano contenti di questa sentenza che aveva ribaltato clamorosamente tutta la vicenda. Infatti non solo De Benedetti si ribellò, ma anche molti dipendenti della Mondadori si ribellarono al nuovo proprietario. E la vicenda quindi divende così un caso nazionale. Infatti intervenne l'allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, che convocò le parti e propose un accordo di transazione. A fare l'intermediario per far firmare questa transazione era Giuseppe Cerrapico, che era un imprenditore, editore e politico vicino ad Andreotti e membro anche del Partito della Libertà. Cerrapico fa firmare questo accordo e questo accordo prevede sostanzialmente che la Repubblica all'Espresso vanno alla CIR, quindi a De Benedetti, per 365 miliardi di lire. Panorama, Epoca e il resto della Mondadori rimangono nelle mani di Fininvest, quindi nella famiglia Berlusconi. Quindi sostanzialmente si è diviso il patrimonio dell'allora gruppo Mondadori. La situazione trovata da Cerrapico soddisfa le parti che sostengono la divisione fino al 1995 e loro l'avrebbero sostenuta anche oltre se non fosse per alcune dichiarazioni fatte da Stefania Ariosto. Lei era un'antiquaria milanese con la passione del gioco ed era la compagna del deputato di Forza Italia Vittorio Dotti, che erano entrambi vicini a Berlusconi e Previti, che era l'avvocato della Fininvest. Le affermazioni dell'Ariosto fanno dubitare la magistratura. Lei parla di tangenti di giudici corrotti e che quindi tutta la vicenda del Lodo Mondadori fosse viziata da corruzione. In particolare l'Ariosto fa i nomi di Valente Emetta, i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Roma che avevano giudicato all'inizio appunto l'accordo tra Formentone e De Benedetti, dando ragione a Berlusconi, dicendo appunto che quindi l'accordo fra Formentone e De Benedetti era contrario alla disciplina della società per azioni. Secondo le dichiarazioni dell'Ariosto i giudici sarebbero stati corrotti da Cesare Previti, che come vi dicevo prima era l'avvocato della Fininvest di Berlusconi ed era anche un politico del partito di Berlusconi. La magistratura quindi indaga su queste affermazioni fatte da questa signora e trova delle prove. Infatti trova dei movimenti di denaro molto sospetti che dalle aziende di Berlusconi tramite vari passaggi arrivavano fino alle casse del giudice Emetta. Il giudice Emetta in quel periodo risultava avere una disponibilità di denaro liquido di dubbia provenienza che aumentava i sospetti degli investigatori. Ma sostanzialmente Emetta dice che non c'entra niente, che non c'è stata assolutamente corruzione, infatti afferma che quel denaro che lui ha, quindi quella somma di denaro, sia un'eredità. Fininvest nega che il denaro uscito dalle sue casse fosse destinato a tangenti, ma li definisce come delle ricompense professionali. Successivamente arrivano anche le dimissioni di Emetta che non fanno altro che alimentare tutte le congetture su questa vicenda. Emetta dopo essersi dimesso nella magistratura cosa fa? Comincia a collaborare come avvocato e dove? Proprio nello studio di Previti. A questo punto tutta la vicenda di tangenti e corruzioni fa sì che la vicenda dell'Odo Mondadori si intrecci con quella della Inizir, che è un'altra vicenda di tangenti e corruzione molto importante della storia italiana, anche se spesso viene dimenticata. Se volete appunto approfondire anche questa vicenda fatemelo sapere nei commenti. Arriviamo quindi alla fine degli anni 90, quindi dopo anni di processi, di sentenze, di ribaltoni, di intervenute prescrizioni, si arriva fino alla Cassazione. La Cassazione nel 2007 condanna Previti, Attilio Pacifico e Giovannia Camporea, che erano tutti avvocati della Fininvest, ad un anno e sei mesi per corruzione giudiziaria. Per Previti era stata decisa anche un'interdizione perpetua dai pubblici uffici e viene condannato anche il giudice Emetta a due anni e nove mesi per corruzione. E se voi steste pensando che la situazione sia finita qui, sbagliate di grosso, perché nonostante sia terminato il processo penale per tangenti, inizia quello civile per il danno economico derivante dal fatto che il lodo Mondadori era stato viziato da corruzione. Infatti, nell'ottobre del 2009 Raimondo Mesiano, del Tribunale di Milano, decide che Berlusconi doveva risarcire alla CIR di De Benedetti circa 750 milioni di euro per danno patrimoniale dato da perdita di opportunità di un giudizio imparziale. Ma come fa Mesiano ad arrivare a questa definizione del procedimento? Infatti, Mesiano scrive che se è vero che la Corte d'Appello di Roma ha emesso una sentenza indubbiamente ingiusta come frutto della corruzione di Emetta, nessuno può dire in assoluto quale sarebbe stata la decisione del collegio nella sua totalità se non ci fosse stata la corruzione. Proprio per questo, infatti, per Mesiano appare più aderente alla realtà determinare il danno subito dalla CIR come danno da perdita di opportunità di un giudizio imparziale. Questo appunto perché non sappiamo come avrebbe deciso una Corte che non sarebbe stata corrotta. La corruzione quindi privò la CIR e De Benedetti dell'opportunità di avere una decisione favorevole che poteva anche non arrivare, ma almeno sarebbe stata una decisione imparziale. Se pensate che la vicenda del Lodo Mondadori sia finita qui, assolutamente no, perché nel 2010 la Corte d'Appello di Milano rileva che Mesiano, che aveva condannato la Fininvest ad un pagamento di 750 milioni di euro, lo aveva condannati senza una perizia tecnica. Questa avviene successivamente in appello, quindi nel settembre del 2010. A luglio del 2011 la Corte d'Appello di Milano emette la sentenza d'Appello. I giudici confermano la condanna emessa da Mesiano, quindi condannano la Fininvest perché appunto la De Benedetti non ha avuto un giudizio imparziale, ma riducono la cifra del risarcimento a 564 milioni di euro, compresi gli interessi. La vicenda però non finisce qui, c'è un altro passaggio, l'ultimo di tutta questa storia. Infatti Marina Berlusconi inoltre ha un esposto ai giudici dicendo che questi avrebbero forzato una sentenza della Cassazione. È un'accusa molto molto grave perché se sono stati forzati significa che probabilmente la decisione della Cassazione non sarebbe avvenuta senza questa appunto richiesta pesante. Tuttavia la Procura Generale della Cassazione dopo aver indagato archivia il procedimento disciplinare e quindi questa guerra infinita, così è stata definita da molti giornali sulla vicenda del Lodo Mondadori, termina con un risarcimento da parte della famiglia Berlusconi della Fininvest alla famiglia De Benedetti e alla Cira.